Ciao ragazzi, oggi l'Incoslob Investigation Tour Timen si trova alla Abazia di Staffarda, perché volevo dire che si... ho sbagliato tutto... va beh insomma... siamo a fare un tour alla Abazia di Staffarda che si trova a Revello in provincia di Cuneo e che consiglio a tutti di venire a visitare perché è una meraviglia architettonica e uno spettacolo per gli occhi. Comunque seguiteci nel nostro tour che parte ora, scusate l'impappinamento di prima però ci sta, ci sta dai! State qui in questo giardino, guardate che meraviglia! Grazie! 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 In questi edifici si respira una pace che è una cosa pazzesca! Bellissima! Queste sono poi uguali a... guarda... queste! Dove le hai viste le stesse... a Bonsa e Michel? Eh sì... a Sagra Gossa Michele! Sì! Michele donna la testa che devo andare a Bonsa e Michel! Andiamo, andiamo! Cioè guardate che architettura... guardate queste... colonne! una meraviglia per gli occhi... una meraviglia per gli occhi... un atto che c'è sempre gente per i casini... non se riesce a cercare niente... piove... c'è una rata che meraviglia! C'è una rata che meraviglia! un libro! Nooo... No vabbè... a partire se fa l'entrissa chiesa adesso devo fare la ripresa finale come si dice a partire 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 a partire